grandissima protagonista di Sanremo e qui con noi Antonella Ruggero benvenuta grazie allora è passato il pezzo da lontano bellissima bellissima canzone come del resto tutte e due meravigliose hai creato un'atmosfera unica su quel palco ti devo rispondere sì cosa potrei mai dirti hai portato la tua classe grazie io ti ringrazio ho portato queste due canzoni perché le trovo abbastanza simili canzoni italiane canzoni con un arrangiamento speciale particolare che peraltro sono racchiuse nel mio ultimo lavoro di 15 canzoni inedite che non realizzavo da ormai da dieci anni quindi questo questa opportunità di Sanremo mi permette di farvi conoscere appunto l'impossibile certo questa mia nuova così il mio nuovo lavoro che amo molto ecco infatti volevo parlare di di questo album che racchiude entrambe le canzoni se possiamo insomma spiegare agli amici il lavoro che c'è stato davvero di ricerca poi tantissimi gli autori dei testi come eri de luca marco travaglio michela murgia insomma tanti autori importanti eraldo affinati ma insieme a loro che sono grandi scrittori comunque persone che fanno del loro lavoro anche come dire un un manifesto se vogliamo talvolta no insieme a loro dicevo ci sono anche dei giovani molti giovani amo sempre partecipare farli partecipare e partecipare insieme a loro a dei progetti perché è giusto che abbiano la giusta visibilità e poi in questo Sanremo ce ne sono moltissimi il 90 per cento sono cantanti musicisti di nuove generazioni e questo è molto importante perché una visione diversa rispetto alla nostra della nostra della nostra generazione un nuovo modo di di concepire anche la vita i testi tutto quello che avviene attraverso attraverso la vita e che entra poi nelle nei brani realizzati tra l'altro davvero se un artista generosa perché è da sempre dato spazio ai giovani al loro talento e non è da tutti non so però secondo me è giusto che abbiano modo veramente di di farsi sentire in un momento peraltro dove molti giovani anche preparatissimi non riescono neppure a no a trovare un lavoro per il quale si sono impegnati per il quale hanno studiato e ben sappiamo cosa succede e quindi almeno nella musica se si può fare un minimo con grande felicità lo faccio Antonella sei arrivata qui con una valigia di libri un termos con il tè al ginger e tanto miele beh poco miele meglio sì certo piccole cose che mi porto da casa e mi fanno sentire a casa dappertutto grazie mille ad Antonella Ruggera grazie a voi grazie ciao